Se questi ragazzini sono così bravi, il merito va, oltre che alla loro bravura, anche al nostro maestro Elmico Giuliano. Con tanta passione e pazienza ha saputo portare avanti il nostro corso di orientamento musicale. Questi allievi proseguiranno il prossimo anno con il livello superiore, dove potranno ampliare l'estensione sonora, apprendere figure musicali violanzate e proseguire lo sviluppo della memoria sonora. In parallelo a questo corso istituiremo un altro corso che partirà dal primo livello di propedeutica alla musica, dove i nuovi allievi inizieranno a sviluppare il senso del ritmo e la memoria sonora vi è da prendere l'alfabeto musicale, costituito dalle prime note. Il corso avrà sede qui a Fulini, presso la Casa del Popolo, in via Valle Stenero 16. Chi volesse partecipare è sempre ben accetto. Adesso Jessica e Giorgia vi presenteranno il loro strumento musicale. Il clarinetto è uno strumento musicale a fiato appartenente alla famiglia dei regni. Il clarinetto è diviso in cinque parti. Partendo dall'alto, lo suonente inizia con il bocchino, corredato di ancia e di legatura, anche detta facetta. Segui il barilotto che fa risuonare le vibrazioni. La parte centrale è costituita dal corpo superiore e dal corpo inferiore. Lo strumento termina con la campana che dà ulteriore dissonanza ai suoni. Il clarinetto ha un suono alto, acuto e versatile. Il tipo del clarinetto è il suo avente e il trintoso. Bravissimo. Grazie. 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 Grazie.